Ciao a tutti, scegli consapevolmente maschere efficaci. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, cosa vuol dire questo titolo, scegli consapevolmente maschere strategicamente efficaci? Noi, nella nostra vita, inconsapevolmente, indossiamo sempre delle maschere. Le maschere cosa sono? Sono tratti del nostro carattere, della nostra personalità per difenderci. Difenderci, quindi talvolta ci chiudiamo, talvolta diventiamo iperlogici, talvolta ci comportiamo, diciamo, in un certo modo, stereotipato, specifico per proteggerci, per interagire. Però avviene inconsapevolmente, questo può portare al fatto che queste maschere, tra virgolette, non siano efficaci e poi anche alla cosa più tragica che confondiamo, la nostra essenza con la maschera. Allora dobbiamo rendere questo processo consapevole, cioè voglio utilizzare una maschera da supereroe, indosso la maschera di Superman, mi comporto come farebbe Superman, cerco e ragiono come ragionerebbe Superman, per fare un esempio. Sono delle maschere che però possono essere strategicamente efficaci quando mi serve raggiungere un certo obiettivo. Oppure posso indossare tutte le maschere di questo mondo, identificandomi come se fossi un attore che sta recitando una parte. E quello a molti attori succede. Io ricordo di aver letto un'intervista di Henry Winkler, che è l'attore che faceva Fonzi, che diceva che dopo un po' si comportava nella vita come se fosse Fonzi. Fonzi, ricordate Happy Days degli anni quando ancora c'erano i cappelli, forse? Quindi, ecco, questo cosa significa? Che negli attori succede, come dire, Henry Winkler ha assunto, tra virgolette, un po' le caratteristiche di Fonzi. Quindi la sicurezza e tutto, no? Perché interpretava questo ruolo? E quindi noi dobbiamo avere questa capacità di interpretare i ruoli. Ma se decido io consapevolmente di interpretare un ruolo, posso anche poi cambiarlo. E il problema è quando avviene inconsapevolmente, che non me ne rendo conto, e quindi si incista al punto tale che poi non riesco più a trasformarla, a modificarla e a cambiarla. Quindi scegliamo deliberatamente, consapevolmente, delle maschere, dei modelli comportamentali che possono esserci utili strategicamente in quella particolare situazione. Quando non sono più utili, li cambiamo e ne scegliamo un'altra. E questo è interessante, perché ci dà una consapevolezza, la capacità di gestire al meglio i nostri comportamenti, di gestire al meglio la nostra vita. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!